in questo breve video ti mostro un errore sovente delle caldaie beretta questa è una beretta minute ecco qui aprendo l'acqua lampeggia questa campanella questa campanella è un errore un blocco dovuto all'espulsione fumi quindi probabile ventilatore difettoso o ostruito oppure pressostato come questo qui che in questo caso ho sostituito è un pressostato che va cambiato perché a volte si ha una membrana all'interno che si rompe o comunque si indurisce in altri casi il problema può essere sempre relativo alla canna fumaria comunque espulsione fumi canna fumaria ventilatore pressostato in questo caso ho cambiato il pressostato ecco qui adesso la campanella non c'è più quindi devi valutare queste ipotesi quando c'è questo errore campanella se hai dubbi scrivimi ti rispondo come sempre velocemente